Tre persone arrestate in un sequestro preventivo per un valore di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di due società rispettivamente con sede a Roma e a Modena, attive nei settori della compravendita di immobili e nella costruzione di edifici. Questi reati contestati, bancarotta e false comunicazioni sociali. Un'operazione piuttosto articolata, diretta dalla Procura della Repubblica di Messina, a cui hanno dato esecuzioni i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina. Tre imprenditori siciliani, di cui uno di origini messinesi, ma attivo anche sulle piazze di Roma e Milano, sono stati colpiti da altrettante ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposte dal GIP del Tribunale di Messina. Investigazioni contabili, accertamenti bancari ed intercettazioni. Per gli inquirenti tutto ruotava attorno ad una società di Messina, specializzata nel settore della fabbricazione di apparecchi per telecomunicazioni, dichiarata fallita dal Tribunale di Messina nel marzo 2017 e ad un gruppo di imprese operanti svariati settori economici. Gli investigatori hanno focalizzato l'attenzione su una specifica operazione economico-finanziare per circa 8 milioni di euro su un credito vantato dalla società fallita nei confronti di una sua società partecipata. Un'operazione che sarebbe stata valutata come meramente strumentale. Avrebbe dovuto occultare la perdita di esercizio che sarebbe dovuta scaturire dalla svalutazione del credito di contro, mostrando ai creditori una solidità e fluidità patrimoniale ed economico-imprenditoriale della società fallita di fatto inesistente. Queste circostanze, che dovranno essere comunque confermate nel dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, si sarebbero consolidate grazie a teste di legno. Si tratta di operazioni verificate nei bilanci delle società coinvolte, così connotandoli dall'esposizione di fatti non rispondenti al vero. Sarebbero emerse poi molteplici sessioni di partecipazioni societarie e crediti ritenuti fittizi ed iscrizioni di passività inesistenti.